Avete mai sentito parlare di idrogeno molecolare? Ora vi spiego una piccola chicca. Lo stress ossidativo cronico è causato dall'eccessiva produzione di radicali liberi, che porta all'invecchiamento precoce e all'insorgenza precoce di malattie legate all'invecchiamento. L'idrogeno supporta il sistema di difesa antiossidante naturale del corpo, sovraregolando l'NRF2 e neutralizzando i radicali liberi più aggressivi nel corpo, riducendo così al minimo lo stress ossidativo. Per questo noi abbiamo due prodotti fantastici, Recovery e Hydrofix, che sono i metodi più convenienti, collaudati ed efficienti al mondo per l'integrazione quotidiana di idrogeno. L'idrogeno molecolare è la più piccola molecola esistente al mondo in grado di entrare nell'interno del mitocondrio. Esso è responsabile del 98% del nostro benessere. I radicali liberi si ripercuotono sul mitocondrio. Ci sono quelli buoni e quelli cattivi. In conclusione, l'idrogeno molecolare è l'unico antiossidante selettivo al mondo in grado di eliminare i radicali liberi cattivi e lasciare quelli buoni. Grazie a tutti.